ciao ragazzi volevo presentarvi oggi il nuovo portanassa wolf 60 50 è un portanassa proprio dalle misure di 60 cm x 50 con un'altezza 13 cm quello volevo far vedere aperto perché praticamente la novità di questo portanassa intanto che è molto facile da poter riempire rispetto a un portanassa tradizionale dove di solito si fa fatica a riporre la nasa perché comunque il lato aperto di solito è quello più stretto abbiamo deciso di fare l'apertura sul lato più largo in questa maniera il posizionamento è facile e agevole come potete vedere all'interno poi è stato dotato di una tasca perché quando si trasporta dopo in verticale rende sempre il portanassa impermeabile questa tasca permette di tenere il liquido l'acqua sporca che magari uno non riesce a mettere la massa sempre asciutta all'interno quindi se il portanassa lo tenete in posizione verticale in questa maniera oppure sdraiato su questo lato qui è completamente impermeabile e l'acqua anche se riponete il portanassa nelle auto o comunque in garage non fuoriesce è dotato sia di maniglia sia di tracolla per il trasporto e come tutta la linea pvc è facilmente lavabile anche una spugna per cui potete rimuovere qualsiasi tipo di materiale e macchia su di esso per cui potete rimuovere qualsiasi tipo di materiale e macchia su di esso almeno ancora di dunque di materiale e macchia su di esso per quello che sto per un'interno